Noi siamo stati 11 giorni e abbiamo pagato 1.800 dollari, 11 giorni, ma tu sei stato lì da Napoli e devi arrivare a venire. Ma di meno, sai perché? Perché non devi pagare i porti, i scali, ogni volta che scali ti costa soldi. Poi gli aspettano i blocchi, gli 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 blocchi. Sì. L'arrivo anche in America. Quanto vale che tra gli aereo ti mette più a me? Eh, ma l'aereo non c'è bisogno, ti posso al momento anche venire a prendere a New York. A New York sono 5 ore, a Mondalea. Ma non c'è bisogno di andare. Perché a Canada, non c'è neppure di come stanno? A Canada c'è il porto a Capec e c'è il porto a Montreal. Ma non ci vengono, le navi non ci vengono dall'Italia. La terra dove c'è originally, da qui? No, è possibile. No, è po' da tutti, ci vengono. E' la camera! No, è più importante. Lima, sì, in limo. È proprio in Boston. Là, in Boston, in Boston. In Boston. essen, man in Boston. I sono in Vigino in New York. Grazie a tutti.